I nostri amici esploratori, Yossè e Quervo, cercarono in ogni angolo del mondo una pianta che potesse permettergli di realizzare un alcol fuori dal comune. Cercarono nei campi di grano, a Berlino, nei campi di girasole, a Venezia, stavano quasi diventando pazzi, credendosi addirittura dei tonni arenati, fino a quando dentro una scatola trovarono l'agave.